Tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'editore Ettore Lambiase che sono giunti alla famiglia per una persona molto conosciuta e ben voluta. Molti esponenti politici ed istituzionali questa mattina hanno dato l'ultimo saluto in chiesa. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con un post su Facebook ha rinnovato il cordoglio della civica amministrazione e familiari collaboratori ed amici. Lambiase è stato un imprenditore lungimirante ed operoso ed ha contribuito con le sue attività alla crescita economica e sociale della nostra comunità. Il nostro commiato è pieno di gratitudine per un uomo capace di ottenere risultati importanti in ambito aziendale turistico ed editoriale ha scritto il primo cittadino. Anche la Salernitana 1919 i dirigenti i giocatori e tutto lo staff con una nota di cordoglio hanno espresso le loro condodianze partecipando al dolore che ha colpito la famiglia Lambiase e la redazione di TV oggi per la perdita del caro Ettore. Sono qui a porre il mio saluto alla famiglia e rivolgere un pensiero commosso all'imprenditore che è stato un punto di riferimento in città un pioniere come le ricordava nella comunicazione da subito tra i primi ha creato una tv che ha consentito di dare voce, spazio a tutta la comunità nella città di Salerno per cui se ne va davvero un pezzo di storia sia pur un po' più giovane rispetto a lui ho avuto modo da subito all'inizio della mia attività di conoscerlo, di apprezzarne le doti umane, le qualità imprenditoriali e davvero oggi è una giornata triste però è bene, è giusto ricordarlo perché Salerno deve tributare un giusto riconoscimento per l'impegno che ha rivolto alla nostra comunità negli anni. Una persona, io commento con difficoltà perché eravamo amici soprattutto e c'era una stima profonda reciproca, credo che sia un pezzo della storia della comunicazione a Salerno e della televisione soprattutto ed è stato nei processi di questa città, nelle cose importanti che riguardano lo sviluppo della nostra comunità, quindi se ne va un pezzo di storia di Salerno. Io sono veramente addolorato perché ci eravamo sentiti proprio con Remo nel momento proprio del ricovero, mi ha mandato la notizia e sono rimasto veramente senza parole anche perché insomma ci vedevamo abbastanza frequentemente ed era sempre molto gioviale con me, molto tenero. Per me veramente è una perdita dolorosa. Io ho conosciuto da sempre, tra l'altro ho iniziato a frequentarlo quando era proprio qua giù a TV oggi, quindi dagli inizi degli anni 80, anzi fine anni 80 e inizio anni 80, poi io con Ettore ho tantissimi ricordi, ma proprio tantissimi perché abbiamo trascorso serate spensierate insieme, abbiamo viaggiato insieme per l'Italia e abbiamo passato anche bellissime estati insieme giù all'Eurega dove lui soprattutto di sera ci intratteneva, intratteneva un gruppo di amici e quindi io va via un pezzo diciamo dei miei ricordi. un grande amico, un carissimo amico e quindi ecco le mie condoglianze a Rosanna, a Remo, a Stefania. Un ricordo, un aneddoto che magari in questo momento lo farebbe sorridere anche a lui ascoltandola? è un ricordo più tragico, ma tragicomico direi perché quando ci fu la famosa D'Angendopoli salernitana, una D'Angendopoli senza soldi naturalmente, la sera prima, un giorno prima io sono stato con lui e lui sapeva di questa vicenda, non sapeva, aveva saputo dai giornalisti insomma c'era un'anticipazione e mi ha intrattenuto a cena con lui tentando di tenermi su, insomma di incoraggiarmi. Salerno oggi perde una persona di gran cuore, un signore, un imprenditore anche visionario, capace, in particolar modo legato al tema del mare, ricordo i tanti momenti nei quali abbiamo discusso in funzione di quello che poi è stato il recupero delle spiagge, la sua positività rispetto anche ai problemi più complessi che ha dovuto gestire nella sua attività di imprenditore, editore storico della nostra città. Chiaramente io perdo anche un caro amico e sarà difficile colmare il vuoto che Ettore Lambiase lascia. Un grande signore, un signore che dobbiamo dire grazie per aver contribuito alla crescita delle nostre comunità, perché informazione significa capacità di costruire comunità, significa capacità di radicare sul territorio, significa democrazia, significa libertà e dobbiamo dire grazie a Ettore per quello che ha fatto per il nostro territorio. Lei è giovanissimo, ma ha avuto modo di conoscerlo sin da subito, non appena è stato impegnato in politica, da sindaco ma anche prima, qual è il ricordo che porta di Ettore Lambiase? La sua umanità, la sua consapevolezza che stava facendo qualcosa di buono per tutti quanti noi, quindi è poi un signore, quindi un binomio fondamentale, signorità, umanità, grande capacità di ascolto, quindi grazie veramente a Ettore per quello che ha fatto e ha lasciato una buona scuola ai figli.